Arrestato in Umbria il pesarese vaso Federico Marcelli. Omicidio di Rita Talamelli, Angelo sfuggiti dall'ospedale ai domiciliari. Fuori pericolo il tredicenne precipitato dal tetto del liceo Marconi. Incidente ferroviario a Faenza, ritardi sui treni marchigiani. Si rafforza il consorzio Pesaro Basket, nuovo sostegno per la WL. Grazie a tutti. Il novembre apriamo questa edizione con la cronaca, in particolare con un'ultima ora perché è stato infatti arrestato in Umbria Federico Marcelli, 49enne, ex ristoratore pesarese evaso dagli arresti domiciliari dalla sua casa di chiusa di Ginestretto, il 15 novembre scorso, quando ruppe il braccialetto elettronico facendo perdere le proprie tracce. È scattata una ricerca a tappeto in tutta Italia con i carabinieri che nella giornata di ieri sarebbero pervenuti all'arresto. È attesa a breve la conferma ufficiale da parte della stessa arma. Su Marcelli pendevano due condanne per violenze sessuali, maltrattamenti e lesioni nei confronti di due donne. Una condanna a sei anni e un'altra a quattro anni e quattro mesi che erano già state confermate in appello e che in questo mese di dicembre avrebbero avuto il verdetto definitivo dalla Corte di Cassazione. E torniamo anche a parlare dell'omicidio di Rita Talamelli, uccisa dal marito Angelo Sfuggiti nella loro casa di Fano lo scorso 20 novembre. Dopo il tentativo di suicidio, l'uomo è attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria di Muraglia e a breve dovrebbe essere dimesso per avviare un percorso detentivo che dovrebbe iniziare agli arresti domiciliari anziché in carcere. Dal ricovero nel reparto pesarese di psichiatria di Muraglia alla detenzione in arresti domiciliari nella stessa casa in cui il 20 novembre scorso uccise la moglie Rita Talamelli. Almeno per il momento sembrerebbe questo l'avvio del percorso detentivo per Angelo Sfuggiti, settantene fanese arrestato per omicidio volontario della moglie. La procura ha avallato la richiesta dell'avvocato difensore Santi di modificare la misura cautelare in carcere con i domiciliari anche in seguito ai diversi tentativi di suicidio dell'uomo. Spetterà il GIP l'ultima parola sulla pena detentiva nei confronti di un delitto arrivato al culmine di un decennio di esasperante convivenza con le patologie psichiatriche della moglie ritenute sempre più ingestibili. Omicidio è arrivato al termine dell'ennesima lite familiare terminata con una collutazione degenerata nello strangolamento della donna e nel susseguente tentativo di suicidio di sfuggiti ingerendo barbiturici. Il tutto fra le mura domestiche della casa bifamiliare di via Montefeltro dove i figli della famiglia vivevano al piano sottostante e a breve è destinato a tornare anche il padre in regime di domiciliari. Continuiamo con la cronaca perché migliorano le condizioni di salute del tredicenne pesarese che sabato pomeriggio è precipitato da un'altezza di 4 metri dopo aver sfondato un lucernaio del tetto della palestra del liceo Marconi. Il minore è stato dichiarato fuori pericolo. È stato trasferito dall'ospedale Torrette all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona il tredicenne pesarese che sabato pomeriggio è precipitato per 4 metri dopo aver rotto un oblò in plexiglass del tetto della palestra del liceo Marconi. Tetto in cui il ragazzo, studente della scuola media Manzoni, si trovava assieme ad altri minori per una presunta attività di parkour, ovvero la tecnica acrobatica metropolitana di salti fra edifici e muri. Questo quanto dichiarato alla polizia da alcuni dei ragazzi intercettati dagli agenti che seguono le indagini. Minori che avevano subito avvertito i genitori dell'amico ferito a corsi sul posto nella giornata di sabato. Il tredicenne in questione attualmente non risulta in pericolo di vita. Era già vigile sabato al momento dei soccorsi e risulta attualmente ricoverato in prognosi riservata ma sembra abbia superato la fase critica. Ha riportato frattura a una gamba e una compressione della cassa toracica. Restano però le riflessioni sui gesti sconsiderati e pericolosi di salire su tetti che non sono nuovi al campus. Già cinque anni fa la polizia intervenì per simili situazioni ed è un caso in cui non ha responsabilità il liceo Marconi sul quale esistono diversi punti d'accesso alla struttura anche alle parti alte dell'edificio. La provincia proprietaria dello stabile aveva già potenziato il servizio di telecamere nell'area. Una videosorveglianza che attualmente è sotto esame per chiarire tutti i contorni della vicenda. Quella di oggi è stata una mattinata con ritardi dei treni fino a 80 minuti fra Marche ed Emilia Romagna dopo l'incidente ferroviario avvenuto ieri sera in prossimità di Faenza. Come vi mostriamo in queste immagini che ha visto poi scontrarsi frontalmente un treno Frecciarossa con un treno regionale che era fermo in stazione dopo essere partito da Pesaro in direzione Bologna. Un impatto per fortuna a bassa velocità che ha procurato 17 feriti lievi fra i passeggeri ma che da ieri sera ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Forlì e Faenza con evidenti disagi sul traffico ferroviario. Disagi per il trasporto sui binari, disagi ieri sera anche in autostrada quando alle 19.30 c'è stato un incidente in prossimità del casello di Marotta. Due auto si sono scontrate, una delle quali si è rovesciata come si può vedere da queste immagini. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e due ambulanze che hanno soccorso le tre persone che erano a bordo dei due veicoli. Il consigliere regionale pesarese Nicola Baiocchi è il nuovo presidente di Fratelli d'Italia per la provincia di Pesaro e Urbino. Proclamazione avvenuta ieri nel congresso del partito tenutosi all'hotel Baia Flaminia alla presenza tra gli altri del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Baiocchi che si presentava come unico candidato succede all'ex sindaco di Piobbico Giorgio Mocchi che aveva assunto le funzioni di commissario provinciale di Fratelli d'Italia. Continua a cambiare volto il centro storico di Fano con la riqualificazione di piazza Andrea Costa, i cui lavori partiranno l'8 gennaio. Lo hanno annunciato oggi il sindaco Seri e l'assessore Brunori presentando il rendering di un intervento che punta a valorizzare gli aspetti storici della piazza e i suoi tratti di luogo identitario legato al mercato. È previsto un abbattimento di barriere architettoniche, cambio di pavimentazione, inserimento alberature e nuovi arredi urbani, oltre ad un cambio di illuminazione. I lavori dovrebbero concludersi entro l'estate. In questi giorni i concerti natalizi arrivano anche nelle scuole, è il caso dell'auditorium dell'Istituto Leopardi che mercoledì alle ore 16.30 ospiterà il baritono di fama internazionale Nicola Laimo, che per l'occasione duetterà con il coro di 50 bambini della scuola primaria I Leopardini. Ad accompagnarli ci sarà l'orchestra sinfonica delle scuole marchigiane Eroica, diretta da Luca Maria Testa. E continuiamo con l'avvicinamento verso un Natale che vuole essere anche all'insegna della sostenibilità. Va in questo senso l'albero composto da 6.000 bottiglie di plastica riciclata allestito nel cortile del Palazzo della Prefettura. Le luci dell'albero della sostenibilità illuminano il cortile d'onore della Prefettura di Pesero. A Palazzo Ducale splende da questo weekend la luce dell'albero realizzato da Marche Multiservizi in collaborazione con il progetto SCART che ridà vita in forma artistica ai rifiuti. Alto circa 5 metri l'albero è realizzato con oltre 6.000 bottiglie di plastica riciclata fornita da Aliplast. Una sinergia virtuosa tra società e progetti del gruppo ERA, Multi Utility Italiana, leader nel settore degli impianti di selezione e recupero dei rifiuti. Abbiamo voluto questo albero per dare anche un segnale, un messaggio importante sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. È un albero che troviamo molto bello soprattutto quando sarà illuminato e siamo felici di poter condividere con la città questo momento importante, quello dello scambio degli auguri con tutti quanti. Crediamo che sia un albero molto bello che doniamo alla Prefettura, alla comunità di Pesero, ma che abbia un messaggio evidente, anzi non lo nasconde, molto importante, che è quello della sostenibilità, quello del riutilizzo dei rifiuti. Tutti i rifiuti non esiste, seguendo anche quello che è un po' il principio, i principi, il criterio dell'Unione Europea, la fine del concetto di rifiuto. Quindi il rifiuto non esiste, è una materia che deve essere recuperata, riciclata, rimessa nell'ottica dell'economia circolare, appunto, nell'economia. Ed ora cambiamo completamente argomento. Prima il risto, poi il centro vaccinale anti-covid di Pesero ed ora una terza vita commerciale per i locali del Rossini Center, che nei giorni scorsi ha visto l'inaugurazione del punto vendita Chia B. L'azienda francese d'abbigliamento apre così a Pesero il suo 37esimo negozio in Italia. Dopo ristorazione e servizio sanitario, arriva la terza vita per i locali del Rossini Center, che furono prima i riconoscibili spazi di ristorazione e self-service del risto, poi furono adibiti a centro vaccinale di riferimento per la città di Pesero in epoca di pandemia ed ora una svolta commerciale, con l'arrivo a Pesero dell'azienda d'abbigliamento francese Chia B. Siamo molto contenti di essere venuti qui a Pesero, effettivamente siamo già presenti su tutta la linea dell'Adriatico, quindi arriviamo a Pescara, Civitanova, Ravenna, quindi ci mancava proprio Pesero e abbiamo deciso di aprirlo. Ci sono delle bellissime famiglie, una bellissima realtà, la città, c'è tanta gente e siamo veramente contenti. Quello di Pesero sarà il 37esimo punto vendita Chia B in Italia. Nasce tantissimi anni fa in Francia, a Lille, nel nord della Francia, dal fondatore Patrick Muglier, che fa parte del gruppo Muglier, ovvero Decathlon, Ocean, Leroy Merlin, e nasce con l'obiettivo di rendere la moda accessibile a tutte le famiglie, quindi una moda a prezzo basso, dove tutti possono trovare il capo che vogliono. Questo concetto si è sviluppato nel tempo, adesso effettivamente quello che siamo è questo, e abbiamo continuato a farlo per tanti anni. Chia B è presente in Italia dal 1996, il primo negozio l'abbiamo aperto a Milano, Corsico. Chia B è una zona francese e vuol dire Chia B, che in italiano sarebbe Chi Veste, quindi proprio abilimento per tutta la famiglia. Noi vendiamo di tutto, quindi per tutta la famiglia vendiamo i prodotti per l'uomo, la donna, bambini, neonati e addirittura anche dei mercati come Garnitalia, tali comodi, prima manna, accessori, quindi vestiamo tutta la famiglia. Vendiamo dai zero anni fino all'adulto, uomo, donna, bambino. Siamo una marca conosciuta e riconosciuta per il bebè, per il reparto Kids, e in questo periodo un po' di difficoltà, di inflazione, diciamo che la nostra missione è un po' quella di stare al fianco delle famiglie con prezzi bassi e una qualità comunque di tutto rispetto che possa far sì che tutti abbiano il piacere di vestirsi. Ed ora passiamo allo sport perché continua ad allargarsi la schiera di imprenditori e sostenitori della VL. Oggi nel comune di Pesaro è stato presentato un nuovo ingresso all'interno del consorzio Pesaro Basket. Siamo di nuovo a presentare un consorziato, quindi vuol dire che la famiglia cresce anche se le difficoltà della squadra sono su un campo, però sull'altro voi state provando comunque a consolidare. Parlaci di questo nuovo consorziato, Franco. Allora, le difficoltà della squadra cerchiamo ovviamente di risolvere perché vogliamo avere l'ambizione di migliorare tutto quello che è migliorabile. Per quanto riguarda il consorzio, questo è il quarto che ufficialmente entra dai sei che avevamo preannunciato. È un nuovo settore, il settore alimentare. È una nuova azienda, è una superstore che apre qui a Pesaro, sostenuta da un grande marchio, che è il marchio Si Contè, che ha un importante fatturato nel settore alimentare, nelle marche. Anzi, nelle marche mi dicono che è il primo nel settore alimentare come quote di mercato. E questo consorziato apre un'attività che è un superstore, mi pare di 2.000 metri quadri, in via del Novecento, nella zona di Santa Veneranda. E ha scelto la VL per promuovere il proprio marchio, la propria presenza nel mercato pesarese. Siamo un'azienda marchigiana con una lunga tradizione, perché abbiamo oltre 50 anni di storia nel mondo della distribuzione alimentare. Siamo un'impresa cooperativa con circa un centinaio di punti vendita, di cui 26 superstore, collocati quasi tutti nel territorio delle marche, con una decina di punti vendita in quel lavoro stesso. Siamo riusciti ad arrivare all'apertura del nostro primo superstore a Pesaro, un traguardo per noi importante, però lo vogliamo fare con il nostro stile, cioè quello di calarci il più possibile nel territorio. E questo bagno nel territorio lo facciamo con diverse modalità, soprattutto andando a collaborare con quelle che sono le realtà più significative nel mondo dello sport, della scuola e in ogni territorio. In questo caso non potevamo esimerci dal collaborare con la VL Basket, che rappresenta il fiore all'occhiello dello sport pesarese, marchigiano e anche nazionale. Nelle nostre strutture di vendita sono sempre privilegiati soprattutto i fornitori locali. Questo è l'imprinting che abbiamo dato alla nostra azienda e che manterremo anche su questo nuovo superstore di Pesaro via del 900. Nuovo ingresso nel consorzio che arriva all'indomani di una brutta sconfitta per la VL. Vediamo allora come è andata, assieme anche a tutti gli altri risultati del weekend delle nostre squadre sportive. Non basta un primo tempo di tenacia e orgoglio per la VL. I biancorossi cedono alla distanza la concretezza di Trento, seconda forza del torneo, che spugna la vitrifriguarena col punteggio di 74-87. Dopo l'intervallo si ripresenta una VL spaisata e con poca intensità che non riesce mai a rientrare in partita, squadra che ora proverà a risintonizzarsi con l'innesto di Cinciarini, che potrà dare una mano ma difficilmente potrà essere il salvatore della patria. Dal basket al calcio, la Vispesero, caricata dal sostegno della festa per i suoi 125 anni, trova un ottimo punto a Perugia, rimontando per due volte ai vantaggi degli Umbri con Pucciarelli e Carson. Esultanza piena invece per la Fiorini, Pesero rugby che vince 15-18 sul campo di Badia, trovando la prima vittoria esterna della stagione e quattro punti che rifocillano la classifica. Nella Palavolo la Megabox Vallefoglia viene sconfitta in 3-7 dalla capolista Prosecco d'Occhi Moco Conegliano, mesce a testa alta dal Palaverde di Villorba. Netta la differenza di qualità rispetto alle Venete, imbattute 5 con 16 vittorie su 16 partite. Le Tigri sono restate in partita nella prima parte dei due set per poi cedere alla distanza di fronte ad una squadra lanciatissima, i parziali 25-18, 25-20, 25-17. Si perde sul più bello invece l'Ital Service che nella massima serie di calcio 5 cade 5-2 in casa con Mantova, interrompendo la striscia di 5 risultati utili. Mantova va sul 2-0 prima che la rete di Tony Dandel chiuda il primo tempo sull'1-2, ammiccando ad una rimonta che non c'è. Ad essere c'è invece l'accelerata dei Lombardi che segneranno altre tre reti prima del vano 2-5 di Murillo Schiochette. Famiglia Ital Service che si consola con la vittoria del Loreto Basket per 64-72 in casa del Porto Recanati per una vittoria che apre al meglio il girone di ritorno. E siamo in chiusura di questa edizione ma restate ancora con noi perché questa sera ci sono tantissime cose da vedere su Rossini TV. Partiamo tra pochissimo con la presentazione delle tante attività dell'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, quindi intorno alle 20 troverete questo bel documentario, questo bel racconto. e poi andiamo avanti perché invece in prima serata questa sera parte un nuovo format dedicato proprio al cyberbullismo che si chiama Affrontare le minacce della rete, capire, prevenire e proteggere. Questa è la prima puntata condotta dal nostro Paolo Pagnini e allora non perdetevi l'appuntamento alle 21.20. E poi domani torno con voi nella nostra rassegna stampa, vi aspetto allora le 7.20 in diretta, chiaramente ci trovate in diretta anche sulla nostra applicazione, sul nostro sito internet Rossini TV.it e anche sulla nostra pagina Facebook. E poi domani vi ricordiamo la nuova puntata di Amministrando verso l'elezione 2024, domani avremo tra i nostri ospiti Luca Pandolfi che è assessore al Comune di Pesaro e Michele Redaelli che è consigliere comunale di minoranza. E allora grazie per essere stati con noi, seguiteci chiaramente sui nostri social per rivedere tutti i nostri servizi, io vi auguro buon proseguimento di giornata, il telegiornale torna domani alle 19.30.